Please approach SCP-173 for testing Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video della storia dei circuiti Oggi andiamo a parare al circuito chiamato Rockingham Speedway Questa è la mappa del circuito Allora Rockingham Speedway, recentemente noto come North Carolina-Nord Speedway E successivamente come North Carolina Speedway È un circuito situato vicino a Rockingham, nella Carolina del Nord È soprannominato chiamato The Rock E in passato ha spiegato il campionato NASCAR, nonché la serie Noster Energy NASCAR Cup Series E NASCAR Champion World Track, Alka e Cars Pro Cup Series Il tracciato aprì come un ovale piatto lungo un miglio di 31 ottobre 1965 Nel 1969 la pista fu ampiamente modificata come un ovale a forma di D Nel 1997 La North Carolina Motor Speedway si unì a Penske Motorsports E fu ribattezzata North Carolina Speedway E questa è tutta la storia di Rockingham Speedway Ok Se il video vi è piaciuto come sempre vi traccia un bel mi piace Per questo video è tutto e noi ci vediamo alla prossima Ciao